Dove andiamo? Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info La panera genovese Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info La cattedrale di San Lorenzo Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Viagare i basi importanti Viagliare i basi importanti Grazie a tutti Sabato! Sono le ore 8.30 E stiamo andando alla Galleria Nazionale di Palazzo Spinola Potete notare che per le strade non c'è ancora nessuno C'è Dio? Un euro un canestrano scuso Buono una pocaccia Buono una pocaccia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti